Compagni e compagne, Volla vi invita ad accettare la sfida. L'appuntamento è per martedì 20 alle ore 19 all'Accademia Musicale Giuseppe Verdi, dove Potere al Popolo arriva per presentare i candidati territoriali e il suo programma in vista delle elezioni del 4 marzo. In realtà Potere al Popolo è un progetto che non avrebbe bisogno di presentazioni, perché Potere al Popolo siamo tutti noi, siamo tutti quei cittadini che dopo 25 anni senza rappresentanza provano finalmente ad avere voce anche nelle sale del potere per cambiare i destini di questo paese, rimettendo al centro i più deboli, perché ricordatevi sempre che divisi non siamo niente, ma uniti siamo tutto, Potere al Popolo. Potere al Popolo è un progetto, potere al popolo, potere al popolo, potere al popolo.